Oggi la nostra inchiesta sui ponti sicuri ci porta nella ZIP, la zona industriale di Padova, nella trafficatissima via Vigonovese e precisamente nel cavalcavia di Corso Argentina che la sovrappassa. In questi giorni è stata puntellata una trave di cemento. Ricordiamo che noi non siamo dei tecnici e quindi possiamo solo azzardare che questo puntellamento sia stato effettuato per evitare che pezzi di cemento armato possano cadere nella sottostante pista ciclabile. Tuttavia non possiamo non notare che questo non sia l'unico punto in via di cedimento. In tutto il cavalcavia si notano in modo evidente le gabbie di ferro e il decadimento dello strato più esterno del cemento. Noi non possiamo dare una valutazione sulla solidità della struttura interna e non possiamo dare un giudizio sul fatto che questo cavalcavia sia diventato a rischio crollo. Ciò che però possiamo auspicare è un'intervento urgente di controllo e ristrutturazione della struttura già da parte del commissario straordinario De Biagi perché l'esperienza insegna a non sottovalutare gli eventi e potrebbe non esserci il tempo di aspettare il nuovo sindaco. Svishenberg Channel News, Padova